A distanza di quattro anni dal sequestro preventivo della condotta fognaria sottomarina di San Leone, la principale inchiesta della Procura di Agrigento in materia di depurazione ha proda in aula. I PM Alessandra Russo, Silvia Baldi e Antonella Pandolfi del Tribunale di Agrigento hanno infatti chiesto il rinvio a giudizio per sette persone tra vertici di giurgenti acque e del lato idrico e per altre persone tra dirigente, progettista e titolare di un laboratorio di analisi. L'accusa è di avere gestito gli scarichi fognari in maniera illegale. I reati ipotizzati sono il danneggiamento, il getto pericoloso di materiali inquinanti, l'abuso d'ufficio, la truffa, la frode in pubbliche forniture e il falso. L'inchiesta è quella dei pennelli a mare che partì nel lontano 2012 dopo la denuncia dei cittadini e anche dell'associazione ambientalista Maria Amica Agrigento delle ripetute rotture della condotta fognaria sottomarina che avrebbe invece dovuto permettere l'allontanamento e la dispersione delle fogne non depurate ad una distanza di 2.700 metri dalla battigia. Queste frequenti rotture a pochi metri dalla riva invece avrebbero provocato l'inquinamento del mare di San Leone. I dati di laboratorio però erano sempre rassicuranti perché secondo l'accusa erano falsificati. Gli imputati sono Marco Campione, 55 anni di Agrigento, legale rappresentante di Girgenti Acque e S.P.A., Giuseppe Giuffrida, 69 anni di Gravina di Catania, ex amministratore delegato del gestore del servizio idrico integrato nell'Agrigentino, Calogero Sala, 56 anni, direttore tecnico della Girgenti Acque e Bernardo Barone, 64 anni, direttore generale del lato idrico, entrambi di Agrigento. Nella lista pure Pietro Amel, 65 anni di Portempedocle, dirigente tecnico del lato idrico, Rita Vetro, 62 anni, titolare del laboratorio di analisi di Favara e Maurizio Carlino, 56 anni, progettista e direttore dei lavori di Favara. A decidere adesso se mandare i sette imputati a processo sarà il giudice Alessandra Vella.